Volevo ringraziare anch'io, mi sono trovata molto bene. Anch'io inizialmente ero scettica e questo corso l'ho trovata mia mamma anche perché poi avevo visto come mi riduco io a scuola con interrogazioni di 50 pagine che non sono come quelle all'università con 2000 pagine. Mi riducevo alle quattro di notte e ci mettevo tantissimo anche perché poi se adesso al liceo mi ritrovo con 50 pagine alle quattro di notte con l'amore di studio che poi voglio affrontare l'università da grande mi piacerebbe diventare avvocato e ciao proprio. Poi anche il mio approccio allo studio mi sono sentita come dire meno non stupida perché anche io affronto molte cose nello studio e l'affronto con un approccio negativo e spesso mi sento stupida. Poi vedendo anche adulti e persone più grandi ho detto ma allora non sono io scema.